Ciao amici di Food, sono le 7 e mezza del mattino, oggi vi porteremo dentro un'esperienza bucolica molto speciale vi faremo vedere come si fa la ricotta e il formaggio prima però di vedere questo video vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per avere tutte le notifiche dei nostri video e adesso seguiteci! la parola ricotta significa letteralmente cotta due volte prima di tutto si fa riscaldare il latte ad una temperatura di circa 36 gradi dopodiché si aggiunge quello che viene chiamato caio e si lascia riposare per circa mezz'ora piano piano il latte solidifica diventando caillata la parte solida viene compressa in dei cestelli di plastica e da qui avremo quella che viene chiamata Tuma questa è la Tuma la parte liquida invece viene rimessa in pentola con il latte fino a raggiungere una temperatura di 78 gradi come fai ad impilarci la mano nell'acqua così bollente? non è bollente ah no? sarà leggermente 50 gradi ah non è bollente qui adesso si sta facendo la ricotta raggiunta questa temperatura la ricotta comincia a venire a galla come per magia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti